Ripeti con me, oggi è il giorno più bello della mia vita e quando noi facciamo questa riduzione con FoodSpring potrebbe essere il giorno più bello della tua vita perché si balla, si ride, si diverte, si muove, perché vorrei farvi capire come ragiono con la vita. Io amo la vita, amo il movimento e il movimento per me è vita e quando vado a fare un evento io vorrei trasmettere questa energia mia attraverso il movimento, attraverso i sorrisi, attraverso anche l'educazione nutrizionale perché quando siamo con FoodSpring impariamo un sacco di cose dai esperti, medici, nutrizionisti, diatologi e non solo, così la prossima volta che facciamo un evento FoodSpring spero di vedervi per ballare insieme, muovere insieme e amarti un pizzico di più perché attraverso il movimento rientri in contatto con te stesso, rientri in contatto con il tuo corpo, rientri in contatto con la vita e la vita veramente diventa una figata così ti aspetto la prossima volta insieme a FoodSpring perché non sapete quanto è divertente muoverti, sudare e sorridere insieme. Un bacio a tutti quanti, ti aspetto alla prossima.